E vade dal carcere il carrerino presunto killer delle due prostitute ma viene fermato in stazione. Il teatro comunale Guglielmi riapre le sue porte dopo la fine dei lavori e quattro anni di sequestro. Sicità in Lunigiana, falde a secco e rubinetti senza acqua, molte le polemiche e l'azione di vigilanza è costante. La giostra della Quintana Cibea costretta all'esilio in Lunigiana, la 32esima edizione si svolgerà a Comano. Lungo mare by night anche la sera di ferragosto, il servizio sta riscuotendo grande successo. A tutti buonasera, benvenuti ad una nuova edizione del telegiornale di Antenna 3 che si apre con una notizia di cronaca. Avete sentito dai titoli? Evade dal carcere di Cuneo ma viene fermato dai carabinieri in stazione il carrerino Daniele Bedini, presunto killer delle due prostitute trovate morte a giugno a Sarzano. E' tornato in casa, i dettagli nel servizio di Alice Spadoni. Stava prendendo un treno con destinazione Torino. Difficile capire dove volesse andare il 32enne, forse scappare in Francia oppure tornare a casa. Bedini non è nuovo a questo tipo di comportamenti, il 32enne aveva tentato di evadere alcune settimane fa dal carcere di La Spezia. Il carrerino complica quindi la sua posizione dopo essere stato arrestato il 7 giugno perché sospettato degli omicidi della prostituta albanese avvenuto nella notte tra sabato e domenica 5 giugno lungo la strada sterrata che costedza lo stabilimento balneare Soleado a Marinella, il cui corpo è stato ritrovato a due chilometri di distanza nelle vicinanze del torrente Parmignola a Sarzana e della transessuale Camilla, la 43enne parrucchiera originale di Ceparana, ma residente da un'ana d'Albiano Magra, trovata senza vita a tre chilometri dal primo omicidio, nelle vicinanze di Marinella di Sarzana la mattina di martedì 7 giugno. Il carrerino, indagato per omicidio volontario, si trova in carcere per un reato passato ingiudicato, ovvero per la rapina a mano armata commessa nel 2019 in un'agenzia di scommesse di Fossola. L'evasione è avvenuta ieri mattina intorno alle 12.40. Come ci sia riuscito è ancora il valore della polizia giudiziaria. Un agente si è accorto della mancanza di Bedini e ha lanciato l'allarme. Subito sono partite le ricerche. I carabinieri, intorno alle 14.30, sono arrivati alla stazione ferroviaria e hanno iniziato a controllare tutti i passeggeri, fino a quando sono arrivati al 32enne. Il carrerino ha dichiarato il falso, ma non è stato creduto dai militari e quindi sono scattate le manette. Segnalati dalla Guardia di Finanza di Lucca, 14 soggetti, 12 italiani, un russo e un egiziano, con circa 30 grammi di sostanze stupefacenti pronte all'uso. I soggetti sono stati individuati anche grazie all'impegno di Unità Cinofile di Massa Carrara, con il maggiore afflusso di turisti in tutta la provincia. Le fiamme gialle del corpo di Viareggio e di Castelnuovo-Garfagnana hanno intensificato i controlli specie nelle aree maggiormente interessate da una più ampia aggregazione giovanile. Nei due interventi sono state controllate oltre 120 autovetture e identificate circa 240 persone, con l'elevazione anche di sanzioni per violazioni al codice della strada. Sono stati disposti i potenziamenti dei servizi di vigilanza e controllo dei principali luoghi di aggregazione e servizi specifici e mirati al contrasto all'accensione di fuochi e falò abusivi. È il risultato dell'incontro del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica che si è svolto ieri in Prefettura. Si è parlato della gestione dell'Ordine e della Sicurezza Pubblica in occasione degli eventi del Ferragosto e sono state impartite specifiche direttive concernenti il monitoraggio del traffico veicolare prevedendo all'occorrenza l'attivazione del Comitato Operativo per la viabilità. Infine il Comitato ha proceduto ad un approfondito esame e conseguente approvazione dei due progetti per l'installazione di due nuovi impianti di videosorveglianza presenti nei comuni di Massa e Carrara. Lo avete sentito dai titoli, il Teatro Comunale Guglielmi riapre le sue porte dopo quattro anni dal sequestro si potranno togliere i sigilli grazie ai lavori per il recupero e l'adeguamento dell'edificio in centro a Massa. Il servizio. Via i sigilli al Guglielmi Il Teatro di Massa non è più sotto sequestro dall'inizio di agosto e adesso può riaprire. Il Sindaco Francesco Persiani ha presentato al Tribunale di Massa l'istanza per ottenere il dissequestro e la restituzione del Teatro Comunale allegando tutti gli atti necessari e il lungo elenco di elaborati ai lavori a supporto della domanda. Dopo quattro anni tutti i lavori sono completati a partire dal recupero e dall'adeguamento del Teatro diviso in due lotti su due piani di investimenti tra il 2019 e il 2021 fino alla riqualificazione l'impiano investimenti del 2021. Le opere hanno dunque risolto tutte le criticità individuate dai vigili del fuoco. L'istanza è stata girata al pubblico ministero che per esprimere il parere si è anche avvalso di una consulenza tecnica. Il professionista incaricato ha effettuato un sopralluogo e ha trovato tutto in regola. Il via libera dal tecnico è servito al parere favorevole del PM e da lì la strada è stata tutta in discesa. L'amministrazione comunale aveva già provato a chiedere di sequestro un paio di volte senza riuscirci. Adesso le opere realizzate sono conforme alla normativa di prevenzione incendi e garantiscono la sicurezza. La fine di un lungo incubo questo potrebbe essere l'ultimo atto prima di poter riaprire lo storico teatro potrebbe mancare solo un mese. L'amministrazione comunale ha espesso grande soddisfazione per il buon esito della lunga e complessa procedura. Il settore cultura e tutti gli uffici comunali competenti sono già al lavoro per presentare la stagione tra il 2022 e il 2023. Seduta del Consiglio Comunale di Massa Deserta l'8 agosto scorso erano presenti solo 16 consiglieri comunali. Il quorum necessario per rendere valida la seduta è di 17. Adesso è stata rinviata a data da destinarsi anche la seduta del Consiglio Comunale prevista per domani. Per il Consorzio Zona Industriale Apuana il commercio all'ingrosso nell'area ex d'Almine non si deve fare. E questo è il parere espresso dall'Assemblea dei Soci. La proposta di realizzare un'attività commerciale all'ingrosso all'interno del perimetro della zona industriale Apuana deve passare da una variante urbanistica per cambiare la destinazione d'uso di un terreno che per vocazione dovrebbe essere industriale o artigianale. Un cambio che non piace ai soci del Consorzio Zia in primis la regione che da sola detiene il 51% delle quote. Al di là del Comune di Massa un veto è arrivato anche dal Comune di Carrara dalla provincia e soprattutto dal rappresentante della Camera di Commercio come dall'autorità portuale. Motivazione a più livelli dalla mancata conformità con i piani sovraordinati come il piano territoriale di coordinamento alla volontà di non erodere altre particelle del tessuto industriale. Ora la parola passa all'amministrazione che potrà comunque decidere di tirare dritto anche con il parere contrario del Consorzio Zona Industriale Apuana. Il primo di agosto è stata recapitata ad un cittadino che si trova in emergenza abitativa in una delle strutture del Comune di Massa una lettera di sollecito al pagamento del costo per la compartecipazione del 10% sui servizi della struttura anno 2021 e parte del 2022 in riferimento al disciplinare dell'ente in ordine all'emergenza abitativa. Ad intervenire in merito ad un caso portato all'attenzione sui social da un gruppo di cittadini è il consigliere comunale del gruppo misto di maggioranza di massa Antonio Cofrancesco. il consigliere ha contestato la missiva inviata dagli uffici del settore sociale invitando il dirigente che ha firmato l'atto ad accertarsi personalmente sulle condizioni igienico-sanitarie cui versano le strutture e come sono costrette a vivere queste persone. Mi batterò in tutte le sedi affinché i cittadini abbiano il trattamento che meritano ha concluso il consigliere e che l'amministrazione lavori per perseguire il fine che è quello di aiutare le persone più fragili che molte volte si vergognano anche di chiedere quello che realmente gli spetta. Stefano Alberti consigliere comunale PD di Massa è tornato a parlare delle frecce tricolori per il consigliere ci sono grandi interrogativi circa le scelte organizzative intraprese dall'amministrazione affidando l'organizzazione all'Areo Club di Lucca il consigliere ha infatti chiesto all'amministrazione il perché sia stato scelto l'Areo Club di Lucca e non l'Areo Club locale di Marina di Massa e per quale motivo siano stati impegnati 78 mila euro all'Areo Club di Lucca mentre nella precedente manifestazione erano a carico degli enti locali solo le spese per le coperture assicurative adesso il consigliere aspetta le risposte da parte dell'amministrazione torniamo a parlare della siccità in lunigiana falde a secco rubinetti senza acqua sono molte le lamentere dei cittadini ma l'azione di vigilanza è costante i sindaci intanto invitano ad un uso responsabile dell'acqua falde a secco e rubinetti senza acqua in lunigiana molte le lamentere da parte dei cittadini l'azione di vigilanza è costante dal 1 gennaio in Toscana stando ai dati è caduto il 34% in meno di pioggia più di un terzo della media con punte di meno 42% in tutta la provincia di Massacarrara Gaia è già intervenuto dove erano state segnalate carenze con proteste come a Villa Franca in via della Vigna ma l'azione di vigilanza è costante il sindaco di Tresana Matteo Mastrini come gli altri sindaci della lunigiana e come Gaia ha invitato ad un uso responsabile dell'acqua per Mastrini l'uso responsabile della risorsa idrica resta un nodo cruciale le azioni dolorose sconsiderate sono all'ordine del giorno adesso ci vuole buon senso nell'uso dell'acqua il responsabile Italia Nostra per la lunigiana Nello Bertoncini invece si è fatto portavoce delle lamentele è inaccettabile che le persone trovino i rubinetti a secco e si debbano lavare quelle salviettine umidificate ha commentato hanno dovuto comprare l'acqua in bottiglia per farsi da mangiare perché non avevano neanche la possibilità di andare a prelevarla alla fontana pubblica si è dovuto adottare l'azionamento da parte del consorzio Toscana Nord per il servizio di rigua filattiera nelle località Caprio e Lapiana e Amulazzo a Zeri nella valle di Rossano vengono invece segnalate criticità nell'erogazione di acqua potabile Nel mese di luglio Asmio ha raggiunto a massa il 65,65% di raccolta differenziata su base mensile si registra dunque un più 26,25% rispetto a luglio del 2020 per l'amministratore unico di Asmio Massimiliano Fornari questo risultato è incoraggiante e sta portando Asmio verso il raggiungimento degli obiettivi di legge La giostra della Quintana Cibea costretta all'esilio in Lunigiana la 32esima edizione della rievocazione storica si presenta Ghibellina e Fuggiasca e verrà svolta a Comano Tra le rievocazioni storiche più rappresentative del territorio massese c'è la giostra della Quintana Cibea capace di richiamare appassionati curiosi oltre che cittadini quest'anno però la Quintana è costretta all'esilio all'unigiana spiega il presidente della associazione ducato di massa Luigi Badiali la 32esima edizione della rievocazione storica si presenta a Ghibellina e Fuggiasca infatti la giostra cavalleresca massese avrà luogo a Comano anziché in Piazza Aranci come era invece nelle intenzioni degli organizzatori il consiglio direttivo della associazione ducato di massa è arrivato a prendere una decisione sofferta che viene imputata al comune cioè quella di spostare la location della giostra ovvero la corsa all'anello con i cinque cavalieri giostranti in rappresentanza dei cinque borghi storici di massa prendendo atto del contributo offerto dal sindaco persiani della sua giunta così commenta Badiali dopo l'insuccesso del tentativo di ristabilire i rapporti istituzionali corretti tra l'amministrazione comunale della situazione nell'incontro tra il sindaco e la delegazione dirigente del ducato di massa avvenuto il 21 ottobre 2021 spiega ancora Badiali si è reso necessario il trasloco della manifestazione lunigiana l'evento si svolgerà dunque a Cumano durante Cumano Cavalli dal 16 al 18 settembre che è messo relativa alla fiera e alle esibizioni dei cavalli provenienti da più regioni venuti a conoscenza di queste difficoltà diversi comuni della provincia si erano dichiarati disposti a risolvere le problematiche come Fibizzano Montignoso e Pontremoli la scelta del consiglio direttivo precisa Badiali è andata poi sul comune di Cumano ma la situazione ducato di massa non demorderà l'idea di chiedere nuovamente la piazza degli Aranci a inizio del prossimo anno con la speranza di trovare un atteggiamento più coerente con lo spirito della legge regionale a favore delle rivocazioni storiche per quest'anno i cittadini della provincia anche oltre sono invitati alla Quintana Cibea a Cumano il 17 settembre notturna con ingresso libero sempre notturna Marina di Massa nella parrocchia di Marina si svolgerà la sera del 15 settembre la rivocazione storica dell'investitura alla benedizione dei cavalli dei cavalieri giustranti e dei loro palafrenieri qualche istante di pubblicità e poi di nuovo in studio per le altre notizie ogni cosa al posto giusto aiutaci a migliorare l'ambiente l'utente dotato di tessera che conferisce rifiuti alle isole ecologiche deve adottare delle piccole accortezze quando conferiamo carta e cartoni all'isola ecologica mettiamo solo il rifiuto sfuso non gettiamo con la carta anche il sacchetto di plastica che abbiamo utilizzato per trasportarlo all'isola ecologica oppure utilizziamo un sacchetto di carta riduciamo il più possibile il volume del cartone evitando di ostruire la torretta una buona abitudine è quella di ridurre gli imballaggi di cartone in piccoli pezzetti non hai la tessera? richiedila ritira la tua tessera per l'apertura delle isole alla sede Asmio in via dei Limoni Asmio l'azienda per l'igiene ambientale del comune di massa dall'8 all'11 settembre a Carrara c'è Convivere più di 60 eventi gratuiti per parlare di tracce con Maurizio Ferraris Telmo Pievani Chiara Saraceno Pier Giorgio Odifreddi Antonella Ruggero Ron e moltissimi altri ospiti a partire dalle 17 Carrara si animerà ad incontri laboratori spazio bambini mostre e spettacoli consulta il programma del festival sul sito www.contrattinovivere.it Luca Mario Emiliano e Santina hanno affidato il proprio cuore alle nostre cure e in poco tempo sono tornati alle passioni di sempre aiutaci a scrivere insieme la prossima storia di cuore dona il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Monasterio ospedali di ricerca a massa e a Pisa Al termine della vita avremo cura dell'ultimo viaggio con esperienza dignità e rispetto onoranze funebri salvatori 340 188 6511 a massa via democrazia e via del cimitero a Mirteto la Versiglia gioca ad anticipo per salvare la prossima vendemmia è partita con due settimane di anticipo appunto alla tenuta Mariani sulle colline tra Viereggio e Lucca la raccolta dell'uva colpa della siccità del caldo e delle temperature oltre i 40 gradi che secondo le stime ridurranno la produzione tra il 10% e il 20% con i vigneti messi a dura prova anche da nottate e AFA e temperature minime eccezionali sempre molto alte che non hanno permesso ai grappoli di prendere un po' di respiro climatico con il tradizionale sbalzo termico e quanto emerge dal monitoraggio di Coldiretti Lucca e vigneto a Toscana in occasione dell'avvio della vendemmia il sindaco di massa Francesco Persiani il vice sindaco Andrea Celli con il consigliere Marco Battistini hanno organizzato per venerdì 12 agosto a partire dalle 9.30 davanti alla stazione di massa un evento tour promozionale della linea TPL speciale estate che collega massa a Pian della Fioba il progetto promosso e sostenuto dall'amministrazione comunale in accordo con Autolinea Toscana vuole offrire un migliore servizio alla cittadinanza e incentivare anche a fini turistici le visite alla montagna massese e ai suoi centri di attrazione quali l'orto botanico di Pian della Fioba la linea in vetta col bus è attiva da venerdì 11 giugno scorso ogni fine settimana dal venerdì alla domenica e durerà fino all'11 di settembre il costo del biglietto è di 1 euro e 50 la manifestazione notti di qualità con la sua uscita ad Aulla è arrivata al Giro di Boa come ha spiegato Maurizio Varese responsabile dell'area delle dipendenze della ASL Toscana Nord Ovest in due mesi l'evento ha toccato Pontremoli Montignoso Marina di Massa e Aulla il 27 agosto sarà a Marina di Carrara in piazza Ingolstadt il 10 settembre alla festa della birra sempre a Marina di Carrara mentre il 17 settembre tornerà a Montignoso i numeri registrati nei primi 4 eventi sono significativi le persone contattate sono state 396 sono stati effettuati 291 ai chilometri di cui ben 223 risultati positivi 113 le consulenze brevi a ragazze e ragazzi sono stati 375 coloro che hanno chiesto informazioni sul servizio dopo la tradizionale cena in blu i commercianti di Marina di Carrara sono al lavoro per l'appuntamento del prossimo 24 agosto che concluderà il ricco cartellone di eventi che Confesercenti Toscana Nord ha messo in campo in questa estate come ha spiegato la presidente di Carrara Alida Vatteroni l'appuntamento del 24 agosto sarà intitolato Tintarella di Luna a Marina di Carrara la Vatteroni ha poi spiegato che non sarà una notte blu in quanto l'organizzazione di un evento del genere avrebbe richiesto mesi di lavoro per questo è stato deciso di riproporre la notte direttamente nell'estate del 2023 sabato 13 agosto si terrà il pellegrinaggio sulla via francigena della Madonna del Popolo si comincia alle 18 dove presso la chiesa di San Sebastiano Massa verrà accolta l'immagine della Madonna del Popolo in arrivo da Pontremoli grazie ad un automezzo messo a disposizione dai vigili del fuoco sarà il vescovo Mario ad accogliere la statua e dopo una breve processione presiderà la messa alle 19 nella cattedrale di Massa al termine della quale ci sarà l'atto di consacrazione della diocesi alla Madonna del Popolo successivamente alle 21 ci sarà il pellegrinaggio notturno dell'immagine verso l'1.45 è previsto il rientro nella concattedrale di Pontremoli e la celebrazione della Santa Messa nella solennità dell'assunzione del 15 di agosto infine la statua della Madonna del Popolo risalirà nella nicchia a conclusione dei festeggiamenti per i 400 anni del voto alle 21 nella concattedrale il vescovo Mario presiderà i solenni vespri lungomare by night anche la sera di ferragosto nonostante cada di lunedì il servizio di bus di autolinee toscane che sta riscuotendo un grande successo sarà attivo per tutti i residenti e i turisti che vorranno godere delle tante attrazioni notturne ancora Alice Spadoni per ferragosto nonostante cada di lunedì ci sarà lungo la costa che da Maria di Carrara arriva fino a Torre del Lago il lungomare by night il servizio di autolinee toscane chi avrà voglia di godere delle tantissime attrazioni che nella notte di metà agosto si ricorrono lungo la Versiglia e lungo la costa Puana potrà farlo in comunità in sicurezza a bordo dei bus lungomare by night è infatti il servizio realizzato con autolinee toscane dai comuni della costa Puana e della Versiglia insieme alle amministrazioni provinciali di Lucca Massacarrara per servire con mezzi pubblici per tutta la notte le località turistiche della costa delle due province il servizio sta incontrando notevole interesse sia fra residenti che fra turisti tanto che nel mese di luglio sono già diverse migliaia le persone che hanno scelto il bus per spostarsi lungo la costa in media si va dalle 250 presenze il mercoledì e il giovedì alle 400 500 nel fine settimana nei bus che partono per primi si spostano soprattutto utenti che in direzione Via Reggio in direzione Massacarrara cercano locali per l'aperitivo e la cena e poi per fare ritorno verso casa nelle ore più piccole i bus si riempiono invece soprattutto di ragazze e ragazzi che usano il mezzo pubblico per aggiungere il locale della movida versiliese a Puana tanto che per la linea in partenza da Manina di Carrara verso la Versia e il sabato i mezzi di disposizione devono essere raddoppiati nella fascia oraria 22.30 mezzanotte e 30 un servizio di trasporto pubblico collettivo che così contribuisce a ridurre i rischi di incidenti stradali fra i giovani lungo la costa che da Torre del Lago arriva fino a Manina di Carrara Sarà il primo esperimento di uno spettacolo teatrale in realtà virtuale in Versiglia e avrà luogo nella fabbrica dei diritti a Sant'Anna di Stazzema venerdì pomeriggio il giorno del settantottesimo anniversario della strage 50 spettatori per ciascuna delle due proiezioni disponibili potranno assistere alla PS segnale d'allarme La mia battaglia VR un'opera teatrale del noto attore e regista Elio Germano che si focalizza sui cambiamenti subiti dalla comunicazione sulla democrazia alla manipolazione dei cittadini l'ingresso allo spettacolo sarà gratuito ma è necessaria la prenotazione perché i posti sono limitati per farlo è possibile telefonare allo 0584 772025 o scrivendo a santannamuseo chiocciola comune.stazzema.lu.it la prima proiezione è prevista venerdì alle 15.30 la seconda alle 17.30 alle 16.30 verrà anche in via eccezionale per il parco nazionale della pace di Sant'Anna il collegamento con Elio Germano e domani giovedì 11.30 alle 21.30 si terrà la serata finale della 29.00 edizione del Festival Sinfonico presso il cortile di Palazzo Ducale di Massa saranno di scena gli archi dell'orchestra sinfonica di Grosseto che sotto la bacchetta di Franz Anton Krager direttore texano specialista nel repertorio americano e pop metteranno in collegamento un originale programma le atmosfere romantiche della Holberg Suite di Grieg la vivacità dei brani della Capriol Suite di Warlock alle melodie delle canzoni dei Beatles sapientemente arrangiate per orchestra dal compositore americano contemporaneo Robert Nelson e domani alle 21.00 il giardino di Palazzo Binelli a Carrara si trasformerà in un atelier artistico dal fascino parigino una prima assoluta nel cuore di Carrara dove il maestro francese Alain Bonfoy dipingerà dal vivo portando il segreto del laboratorio artistico a disposizione del pubblico che potrà assistere alla magia della creazione a partire dalla ricerca dell'ispirazione generatrice al secondo piano di Palazzo Binelli è inoltre stata augurata alla fine di luglio la mostra del maestro di Montmartre intitolata L'attesa una personale il cui filo conduttore delle opere è il nudo di una figura femminile coricata che si rifà alla tradizionale ottocentesca francese la mostra resterà aperta fino al prossimo 27 agosto la cultura del marmo invece è al centro della vita economica sociale internazionale di Carrara e dell'Italia se ne parlerà domani alle 19 nel salotto di Torano in occasione della 24esima edizione di Torano notte e giorno ospiti della Gorà nel cuore del Borgo dei Cavatori l'imprenditrice Fabiola Lazzareschi della ditta Cave Lazzareschi e il presidente del Rotary di Carrara Gian Vincenzo Passeggia l'incontro sarà condotto da Luca Borghini la rassegna salotti d'autore propone dei nuovi appuntamenti il primo è in programma venerdì 12 agosto e vedrà come protagonista Emiliano Pianini con il suo libro Ho ucciso si tratta di un giallo ambientato nel maggio del 1944 a Carrara l'autore sarà introdotto da Nanda Lorenzini presidente dell'associazione culturale Amici di Luni sabato 13 sarà la volta di Melania Soriani con il suo Bly la presentazione a cura di Maria Mattei ricercatrice dell'associazione culturale Open Center liberamente ispirata dalla biografia di Elisabetta Cochran Bly è la storia ancora poco nota di una donna coraggiosa audace idealista che divenne la prima giornalista investigativa americana gli incontri si svolgono con inizio alle 21 nel giardino di Palazzo Binelli a Carrara grazie all'ospitalità della fondazione Cassa di Risparmi di Carrara venerdì 12 agosto alle 19 presso lo spazio espositivo Estensioni di Carrara in via Olivi sarà inaugurata la mostra di Luca Giannotti ricollocando che resterà in esposizione fino al 3 settembre una mostra variegata da osservare con curiosità e con un occhio attento al dettaglio dove lo scarto termine troppo spesso utilizzato solo con accezione negativa o ancora di più dispregiativa diventa assoluto protagonista grazie all'estro creativo di questo artista è in pubblicazione il bando pacchetto scuola per l'anno scolastico 2022-2023 che prevede un beneficio economico per gli studenti residenti in Toscana iscritti ad una scuola secondaria di primo e secondo grado appartenenti a nuclei familiari con ISE non superiore a 15.748,78 euro la domanda deve essere presentata entro il 21 settembre in modo d'età online dal sito del Comune di Massa servizi online sportello servizi educativi e scolastici e adesso guardiamo insieme il tempo che farà domani il meteo è presentato da Brico Center Massa il tuo vicino di fare previsioni per giovedì 11 agosto cielo sereno poco nuvoloso temperature massime in calo venti deboli o moderati mare poco mosso venerdì 12 nuvolità variabile temperature lieve diminuzione venti deboli o moderati mare poco mosso tendenza nei giorni successivi tempo stabile soleggiato temperature lieve calo venti deboli o moderati mare poco mosso per aggiornamenti consultare il sito www.meteapuane.it il meteo è stato presentato da Brico Center Massa il tuo vicino di fare via Marina Vecchia 5 ti aspettiamo il nostro telegiornale termina qui grazie per aver seguito la nostra informazione vi auguro una buona serata e vi do l'appuntamento a domani arrivederci grazie per aver guardato il nostro month a domani grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie.